Giancarlo Ghechinato, organizzatore del grande evento culturale Polesine Chiama Messico, che intende ogni anno premiare le persone che ci sono maggiormente distinte verso la solidarietà, il volontariato e la fratellanza. Questi tre valori sono portati dalla Madonna di San Juan de los Lagos, che è giunta in Polesine nel 2021 e che ogni anno desideriamo mostrare l'eccellenza del Polesine che ci sono distinte. In questi valori belli, soprattutto oggi è un periodo di guerre e di odi, è bello ricordare che l'uomo è fratello dell'altro uomo. Grazie.